Domenica del Battesimo di Nostro Signore si soffermiamo su qualche parolina. Innanzitutto il popolo era in attesa. Bella questa espressione verbale del Vangelo di San Luca al capitolo terzo che stiamo analizzando in questa Domenica. Il popolo attende, attende di sapere dove è il Cristo, dove è il Signore. Allora il Battesimo che cos'è? È la rivelazione che appaga un'attesa. Senza questa attesa di Dio, come avrebbe detto Simon Weil, non ci sarebbe nemmeno desiderio del Battesimo. Noi pensiamo al Battesimo come qualcosa che abbiamo già ricevuto nel tempo, quindi siamo stati già immatricolati nella fede. Invece il Battesimo deve essere in attesa, deve essere un desiderio. Cioè tutti quanti noi abbiamo bisogno di questo, tra virgolette, Battesimo di desiderio. Cioè il desiderio di Cristo, il desiderio di essere di Cristo, il desiderio di essere inseriti in Cristo. È questa attesa dinamica che ci fa andare. In passato, alla data del nostro Battesimo, apro e chiudo parentesi, tutti quanti dovremmo festeggiare fortemente il giorno in cui siamo diventati cristiani. Quindi andiamo a ricercare nei registri delle nostre parrocchie qual è il giorno in cui siamo stati battezzati e festeggiamolo. Quindi col passato dobbiamo andare indietro all'evento sacramentale, ma nel presente dobbiamo avanti, cercando sempre dove è Cristo per vivere in Lui concretamente. San Giovanni Battista dice non sono io, ma c'è un ischiutore, Tos. Cioè uno che è più forte di me e colui che battezzerà non solo con acqua, ma con Spirito Santo e fuoco imprimerà questo carattere. Ultimi versetti, 21-22, la seconda parte del Vangelo, mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù anche lui aveva ricevuto il Battesimo. Quindi vedete San Luca, rispetto agli altri sinottici, dice che la scena del Battesimo è già avvenuta, non ci interessa, ci interessa l'effetto di questo Battesimo. Una particolarità, Gesù stava in preghiera, pregando, era in preghiera. Questo non è semplicemente un aggettivo, una possibilità, è una sottolineatura evidente. Il Battesimo richiede la preghiera. Non siamo stati semplicemente, come dicevo prima, immatricolati per andare. Abbiamo ricevuto un dono, siamo stati impressi in fuoco e questo fuoco deve ardere dentro di noi, alimentandolo con la preghiera. Quindi non esiste un Battesimo già dato, esiste un Battesimo che si dà giorno dopo giorno col fuoco della preghiera. E Gesù in prima persona pregava. Tre elementi dunque durante il Battesimo. Il primo, il cielo si aprì e discese sopra di lui lo Spirito Santo, bellissimo. Vi ricordate Isaia 6, 4? Ah, se squarciassi i cieli, ah, se scendessi dal cielo dopo questo periodo di grande carestia profetica. Anche lì erano tutti in attesa del profeta. Il cielo si apre e arriva il Signore, il Cristo. Sotto forma corporea di una colomba, somatico eidei, somatico eidei, os peristeran, cioè che significa proprio sotto la forma corporea, come di una colomba. Bellissimo questo simbolo, la colomba. La colomba cos'è? L'uccello che cerca sempre il nido. E così lo Spirito Santo, sotto questa forma corporea, cioè evidente, l'hanno visto con i loro occhi. Non è che era fantascienza. E lo Spirito che cerca sempre il suo nido. E il suo nido chi è? È Cristo stesso. Cosicché anche noi nel Battesimo diventiamo nidi dello Spirito. Lo Spirito ci cerca e noi lo accogliamo con il fuoco della preghiera. Venne una voce dal cielo che diceva, tu sei il figlio mio, l'amato. Bellissimo questo termine, l'agapetos. Vi ricordate in Genesi 22, no? Quando Dio chiede ad Abramo il sacrificio di sacco e dice, il tuo unico figlio, quello che tu ami, l'amatissimo, quello nel quale tu hai riversato tutto il tuo amore. In te ho posto la mia eudochissia, cioè tutto il mio compiacimento. Io ti amo tantissimo. E allora nel figlio di Dio egli è veramente il depositario, il deposito di tutto l'amore di Dio. Lui è il nido di tutto l'amore della Trinità. E in lui anche noi diventiamo questo nido, questo ricettacolo dell'amore della Trinità. E allora ricordando la data del nostro Battesimo, rimaniamo in attesa giorno dopo giorno di poter partecipare a questa immersione in Gesù Cristo, soprattutto nell'Eucaristia la Domenica. Preghiamo nel fuoco della preghiera perché lo Spirito Santo entri dentro di noi e faccia il suo nido, perché noi siamo gli amatissimi di Dio. Buona Domenica del Battesimo a tutti.